Il terreno di gioco è quello dell'area sportiva del Parco Verde di Caivano, rigenerata grazie al progetto La Bellezza Necessaria. Il messaggio è un appello alle istituzioni affinché i riflettori accesi sui problemi del territorio non si spengano più. Questi tre anni abbiamo provato ad animare questo territorio grazie alla forza dello sport, grazie alla potenza dello sport. Per cui questa è una giornata su cui magari proviamo anche a sponsorizzare questo progetto per un proseguo che possa esserci negli anni. La partita della parità e del rispetto ha visto coinvolte squadre dei ragazzi del territorio, oltre a quelle del circolo sportivo RAI e delle associazioni La Bellezza Necessaria e Facciamo Pari. Il risultato importante non è stato quello della partita ma l'aveva imposto messaggi come la necessità di legalità, parità di genere, inclusione e interventi di rigenerazione urbana, tra gli enti coinvolti l'associazione italiana Calciatori. Ritornare oggi qui attraverso una partita, attraverso il calcio e continuare a sostenere progetti importanti che aiutano i ragazzi ad uscire un po' da una marginalità dove magari realtà come quelle di Caivano debbono assolutamente uscire.